Numero uno, The Voice, Jay. Numero tre, la nipotina d'America, Carly. Numero quattro, il grillo parlante, Maren. Numero sei, la farfalla tigre, Giulia. Numero sette, la settima meraviglia, Cischi. Numero otto, l'inarrivabile, la capitana, Cri. Numero dieci, l'artista, Maggie. Numero undici, la pantera, Cilda. Numero tredici, l'amazzone, Valentina. Numero quattordici, la gemella diversa, Valeria. Numero diciassette, Miss Murone, Giulia. Numero diciassette, la romagnola, Veronica. Primo allenatore, signor Carlo. Secondo allenatore, Massimo. Primo allenatore, Massimo. Primo allenatore, Massimo. Primo allenatore, Massimo.